Nella notte dei conflitti che stiamo attraversando, le religioni siano albe di pace, semi di rinascita, tra devastazioni di morte, echi di dialogo che risuonano istancabilmente, vie di incontro e di riconciliazione per arrivare anche là dove i tentativi delle mediazioni ufficiali sembrano non sortire effetti. L'ultimo incontro di Papa Francesco a Baku è stato nel segno del dialogo interreligioso nella moschea Eidar Alief, alla presenza dello sceico dei musulmani del Caucaso e di diversi rappresentanti delle altre comunità religiose dell'Azerbaijana. In un clima di pensieri e intenti condivisi, il Pontefice ha sottolineato che Dio non può essere invocato per interessi di parte e per fini egoistici, non può giustificare alcuna forma di fondamentalismo, imperialismo o colonialismo, e che le religioni, soprattutto in un mondo di vorticosi paradossi, dove imperversa il nichilismo di chi non crede più a niente se non ai propri interessi e vantaggi, sono chiamate a edificare la cultura dell'incontro e della pace, accompagnando gli uomini nella ricerca del senso della vita. Nessun sincretismo conciliante, ha proseguito Papa Francesco, non un'apertura diplomatica che dice sì a tutto per evitare i problemi, ma dialogare con gli altri e pregare per tutti. Questi sono i nostri mezzi per far sorgere amore dove c'è odio e perdono dove c'è offesa. Oltre gli interessi di parte, i torti del passato, le religioni sono chiamate oggi a consegnare un mondo riconciliato alle nuove generazioni, un futuro diverso.